Nel corso di 2021 si è consolidato in Piemonte lo sviluppo della rete 5G per quello che riguarda la telefonia mobile. Ecco sentite qua gli impianti per la telefonia mobile 5G sul territorio piemontese sono aumentati negli ultimi due anni e la loro installazione è stata autorizzata a valle di un'analisi di ARPA che verifica le loro emissioni quindi dal punto di vista dell'esposizione ai campi elettromagnetici generati viene garantito il rispetto dei limiti che tutelano la popolazione. Per avere un'idea di quanto incidano come fonte di esposizione ai campi elettromagnetici gli impianti 5G ad oggi installati sono passati da meno del 2% nel 2020 a circa il 5% nel 2021 della potenza di tutti gli impianti per telecomunicazione in Piemonte. La tecnologia avanza e mi dicono che il 5G utilizza delle antenne particolari che sfruttano meglio la potenza che viene emessa antenne che indirizzano questa potenza verso l'utente attivo piuttosto che spargere il segnale in giro un po' verso chiunque e quindi noi dovremmo essere esposti mediamente a meno campo elettromagnetico col 5G. E infatti l'ARPA ha verificato con una campagna di misure su 50 siti regionali, 50 punti del nostro territorio e i livelli massimi del campo elettrico raggiunti presso gli impianti 5G sono in oltre il 90% dei casi più bassi della metà del valore di attenzione su 50 siti regionali. Grazie. 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 Grazie a tutti.